Allora, dato il sistema discreto, esercizi di questo tipo non hanno molto senso per sistemi tempo continui, perché nei sistemi tempo continui il sottospazio di raggiungibilità è sempre uguale al sottospazio di controllabilità, cosa che non è vera nei sistemi discreti. Il sottospazio di controllabilità contiene sicuramente, quando siamo arrivati all'ordine massimo, va bene, contiene sicuramente il sottospazio di raggiungibilità, ma a virgolette può essere più grande quando la matrice A ha autovalori uguali a zero, se no coincidono sempre. Allora, x di k più 1 uguale ad A per x di k più B per U di k. Noi sappiamo già, va bene, che per quanto riguarda la proprietà di raggiungibilità, il sottospazio di raggiungibilità in due passi contiene sicuramente il sottospazio di raggiungibilità in un passo. Il sottospazio di raggiungibilità in tre passi contiene eventualmente uguale sottospazio di raggiungibilità in due passi e così via. Siamo d'accordo? Succede la stessa cosa anche per la controllabilità. Cioè, è vero che xc in un passo è contenuto dal sottospazio di controllabilità a zero in due passi e così via? Punto interrogativo? è vero. Basta dimostrare che qualunque k generico, x di k è contenuto in x con c di k più 1, eventualmente coincide. Sia x appartenente a xc in k passi, ovvero sia significa che a alla k per x appartiene ad rk che è uguale all'immagine di b a b puntolini a alla k meno 1 per b. Questo è r di k. Allora moltiplichiamo ancora per a questo termine ottenendo a alla k più 1 per x che appartiene ovviamente ad a moltiplicato i vettori di r di k che è uguale all'immagine di a b a quadro b puntolini a alla k per b che è certamente contenuto in immagine di b a b puntolini a alla k per b che è il sottospazio di raggiungibilità a in k più 1 passi. Ah dunque questo qui rk alla k meno 1 si ha raggiunto. No si è moltiplicato per a e a alla k. Questo? Perché? A alla k per b. Moltiplico? Scusate. un istante. Rivediamolo un momentino. Mi sembra che allora a alla k per x deve appartenere all'ipotesi che x appartenga al sottospazio di controllabilità in k passi. Significa che a alla k per x deve appartenere al sottospazio di raggiungibilità in k passi. Siamo d'accordo? E questo sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di b a b a alla k meno 1 per b non a alla k. In un passo sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di b a b. In k passi è l'immagine di b a b a quadro b a alla k meno 1 per b. Siamo d'accordo? Bene. Allora, se a alla k per x appartiene a questa immagine, a alla k più 1 per x, ho moltiplicato questo per a. Siamo d'accordo? Questo appartiene ad a per r con k che è uguale ad a per b più a quadro b più l'ultimo gruppo di vettori è a alla k meno 1 per a che è a alla k per b. Che problemi ci sono? Possiamo andare avanti? E questo qui è r di k più 1. No, non è ancora r di k più 1. Va bene. che è certamente contenuto in immagine, l'immagine di questo è certamente contenuto nell'immagine di b a b eccetera eccetera che è r perché ci ho aggiunto delle colonne. Quindi tutt'al più l'immagine incrementa. Va bene. ma questo vettore appartenente all'immagine di a b eccetera eccetera è certamente contenuto in questo. E questo non è altro che r di k più 1. Quindi se x appartiene al sottospazio di raggiungibilità in k passi, appartiene anche al sottospazio di raggiungibilità in k più 1 passi. E quindi il sottospazio di controllabilità, scusate, e quindi il sottospazio di controllabilità in k più 1 passi comprende. E' virgolette più grande, chiuse le virgolette, del sottospazio di raggiungibilità in k passi. Quindi questo sottospazio di controllabilità a 0 via via aumenta l'aumentare del numero di passi. Fino a quando? Non può aumentare indefinitamente. Va bene. Per chi è il più, arriva ad essere tutto lo spazio, poi non può più incrementare. E quindi x con 2, con ovvio significato della simbologia, x con 2 raggiungibilità in due passi, contiene x con 1 puntolini, fino a quando? Fino a quando non trovo due passi, x con k e x con k più 1, che sono uguali, le dimensioni non incrementano più. Da quel momento in poi ho raggiunto il massimo del sottospazio controllabile a 0. No, questo è troppo complicato ora, magari lo faremo più tardi. Sì, sia data la seguente matrice. Per vedere quando si è raggiungendo il passio di sottospazio di controllabilità, si guarda il successivo, se è uguale al precedente. Oppure anche quando si è uguale al precedente. Se potrebbe anche quando R diventa invariante. R diventa invariante, va bene, ed è il sottospazio massimo di raggiungibilità. Non è vero che il sottospazio di controllabilità abbia raggiunto il suo massimo. Esempio, avete sentito la domanda del vostro collega? Va bene, si può porre in questa maniera. Se il sottospazio di raggiungibilità raggiunge il massimo in k passi, va bene, è vero che anche il sottospazio di controllabilità raggiunge il suo massimo in k passi? Risposta, no. Va bene. Si prende ad esempio la seguente matrice. Così fatta. Sarebbe vero se anche A fosse non singolare? Se A è non singolare è vero. Va bene, allora è vero. Ma se A è singolare non è vero. Ad esempio, prendiamo questa matrice. 0, 1, 0, 0, 0. Ultima riga. 0, 0, 0, 1. Quindi un blocco di Jordan di dimensioni abbastanza grande. Va bene. Associato all'autovalore 0. Va bene. E poi qui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Autovalori di questa matrice 0 e 1. Il B, prendiamo anche un solo ingresso, si è il seguente 0, 0, 0, 0, 1. Ultima componente. Che dimensioni ha il sottospazio di raggiungibilità? Dimensione 1, l'MPBH, questa è l'unica componente di B diversa da 0. Associato, questa è una forma di Jordan, va bene, all'autovalore 1. E quindi ho un sottospazio di raggiungibilità dimensione 1. Sottospazio di controllabilità, ed è invariante ovviamente in questo caso, il sottospazio di raggiungibilità, perché ha già raggiunto la sua dimensione massima in un passo. Sottospazio di controllabilità 0. Quanti passi devo fare? Oh, attenzione, che questo blocco di Jordan, questo blocco di Jordan, associato all'autovalore nullo, è associato a una catena di Jordan, c'è un solo blocco, va bene? Il sottospazio di controllabilità è tutto lo spazio. Perché è uguale, inopportuno numero di passi, va bene, al sottospazio di raggiungibilità, più il nucleo di A alla N. Va bene? Allora, quando è che raggiungo il massimo del sottospazio di raggiungibilità? Lo raggiungo in N passi. In N meno 1, va bene. Ma certamente in un numero di passi maggiore dei passi in cui raggiungo il massimo del sottospazio di raggiungibilità. Il numero di passi diventa lo stesso tra raggiungibilità e osservabilità, va bene? Se la matrice A è non singolare, allora sì. Si è data la seguente matrice. Partizionata in sottomatrici. 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. È una forma compagna orizzontale inferiore. ultima riga meno A con 0 meno A con P meno 1 quindi è una matrice di che ordine? di ordine P va bene, è una matrice in forma compagna e mi sono fermato ad A alla P meno 1 vuol dire che è la matrice di ordine P 0, 0 ancora una forma compagna 0, 1 puntolini ultima riga meno B con 0 meno B con 1 meno B con Q meno 1 quindi è una matrice quadrata di ordine P più Q e anche qui sotto P più Q qual è la condizione necessaria e sufficiente affinché con un solo ingresso B io possa rendere il sistema completamente raggiungibile c'è una condizione necessaria e sufficiente affinché con opportuno vettore di ingresso B il sistema sia completamente raggiungibile se non è soddisfatta questa condizione il sistema non potrà essere completamente raggiungibile vediamo qual è questa condizione con un ingresso affinché il sistema possa essere completamente raggiungibile con un ingresso la matrice come deve essere abbiamo detto come deve essere la matrice affinché la coppia AB B un vettore colonna sia completamente raggiungibile la matrice A deve essere ciclica ovvero sia la matrice tutta questa matrice quindi deve avere deve avere solo un blocco di Jordan per ogni autovalore le forme compagnie le forme compagnie sono sempre matrici cicliche e quindi se io mi limito gli autovalori va bene di questa matrice qui così sono separatamente gli autovalori visto che è in forma diagonale a blocchi di questo blocco e di questo blocco anzi se li metto in forma di Jordan posso mettere va bene separatamente in forma di Jordan questo blocco in forma di Jordan questo blocco conclusione visto che una matrice in forma compagna è per sua natura già ciclica e quindi i blocchi di Jordan associati a questa matrice sono soltanto uno per ogni autovalore può essere di dimensioni quel che si vuole ma è soltanto un blocco di Jordan per ogni suo autovalore e anche in questo caso esiste un solo blocco di Jordan per ogni suo autovalore il complesso resta ciclico se com'è che fa a diventare com'è che può diventare non ciclica quella matrice se esiste un blocco di Jordan qui uguale ad un blocco di Jordan di questa matrice ma questo sarà possibile se e solo se i due polinomi caratteristici gli autovalori sono diversi dell'uno e dell'altro blocco perché se ne esiste uno uguale ci sarà un blocco di Jordan sopra e un blocco di Jordan sotto associati al medesimo autovalore e quindi niente ciclicità di questa matrice complessiva quindi vuol dire che un polinomio tra l'attrice non deve essere divisore dell'altro specialmente devono essere coprimi devono essere coprimi cioè il massimo com'è un divisore tra il polinomio S alla P più A con P meno 1 S alla P meno 1 più puntolini A con 0 e il polinomio S alla Q più B con Q meno 1 S alla Q meno 1 più puntolini B con 0 questi polinomi devono avere massimo com'è un divisore una costante facciamo anche questo la coppia A B si abbia una coppia A B completamente raggiungibile e si consideri ora la coppia A più alfa I virgola B si domanda la completa raggiungibilità della prima coppia significa che anche la seconda coppia è completamente raggiungibile o no? se A B è completamente raggiungibile A più alfa matrice identica alfa uno scalare va bene accompagnata da B è ancora completamente raggiungibile punto interrogativo o no? o può darsi che aggiungendo alla matrice dinamica A va bene il medesimo valore lungo la diagonale A più alfa I posso perdere la raggiungibilità punto interrogativo vediamo un po' la completa raggiungibilità di questa coppia mi dice per il lemma B di H che la matrice A men lambda I mettiamola in questi termini accompagnata da B deve essere di rango pieno qualunque sia noi abbiamo detto qualunque sia l'autovalore di A il posto di lambda ma abbiamo detto possiamo tranquillamente dire qualunque sia il valore complesso di lambda l'emma pbh qualunque sia il valore lambda va bene questa matrice A men lambda I deve essere di rango pieno allora scriviamo la matrice dell'emma pbh per questa coppia dovrei scrivere A più alfa I è la matrice meno lambda I accompagnata da B e vedere se questa matrice ha rango pieno ma questa la posso scrivere così A meno lambda meno alfa per I accompagnata da B e se questa matrice ha rango pieno va bene no scusate questa matrice qui ha rango pieno qualunque sia alfa qualunque sia lambda vuol dire che questa matrice ha rango pieno qualunque sia il valore di lambda meno alfa anche quello è un complesso per cui essendo quella matrice sempre di rango pieno anche la coppia A più alfa I B è completamente raggiungibile e la coppia A su uno scalare alfa cioè divido tutti i termini di A per alfa accompagnata sempre da B sempre nell'ipotesi che A B sia completamente raggiungibile questa coppia è ancora completamente raggiungibile ovviamente alfa deve essere diverso da da zero ovviamente perché se no non ha senso sempre l'M più B H A su alfa men lambda i accompagnato da B il rango di questa matrice è uguale alla stessa matrice moltiplicata per alfa diverso da zero e quindi il rango di questa matrice è uguale rango di A meno alfa lambda i accompagnato da alfa B ma attenzione io ho una matrice rettangolare che avrà un certo rango moltiplico alcune colonne anche tutte ma scelgo alcune colonne le prendo come voglio e le moltiplico per tutte per una costante ad esempio cambia il rango della matrice il rango della matrice dipende dalla lineare indipendenza o meno tra le diverse colonne allora moltiplicare un certo numero di colonne per una costante alfa diversa da zero ovviamente perché sennò diventa tutte nulle e cambia tutte per una matrice alfa non modifica la linearità la lineare indipendenza o meno delle diverse colonne ovvero sia il rango di questa matrice è uguale anche al rango di A meno alfa lambda i virgola B ma questa matrice è sempre di rango pieno perché alfa lambda è un numero complesso quindi dall'ipotesi che la coppia B sia completamente raggiungibile ne discende e quella matrice è sempre non singolare e quindi è non singolare questa e quindi il sistema con matrice A fratto alfa B è completamente raggiungibile ultimo AB completamente raggiungibile e prendiamo la seguente coppia A rimane inalterato cambiamo il B e prendiamo A per B questo è B tilde il nuovo B che ha le stesse dimensioni di questo allora se A e B sono completamente raggiungibili è vero che questa matrice questa coppia è ancora completamente raggiungibile proviamo il sottospazio di raggiungibilità di questa coppia è immagine B della matrice prime colonne A per B per cui è questo ora il vettore la matrice di ingresso poi A quadro B A per AB poi A quadro per AB A cubo B puntolini A per A alla N meno 1 per B e quindi A alla N per B uguale tutte le colonne sono moltiplicate per una matrice A a sinistra e quindi questo uguale all'immagine sempre di A moltiplicato B AB eccetera eccetera ma che cos'è B AB e così via il sottospazio di raggiungibilità della coppia AB per R della coppia AB questa matrice è per ipotesi di rango pieno dall'ipotesi che la coppia AB sia completamente raggiungibile è di rango pieno anche questa matrice punto interrogativo ma dipende da cosa da A se A è non singolare di rango pieno allora effettivamente il rango di questa matrice è sempre N quindi la raggiungibilità si mantiene se A invece è singolare allora questa immagine non è più tutto lo spazio perché l'immagine di R AB è tutto lo spazio però se ci applico una trasformazione singolare va bene non ottengo più tutto lo spazio per cui questa coppia così costruita è ancora completamente raggiungibile se la matrice ovviamente nell'ipotesi che la coppia AB sia completamente raggiungibile è ancora completamente raggiungibile se A è non singolare non è completamente raggiungibile se A è singolare dunque vediamo un po' sulla raggiungibilità cosa devo e controllabilità cosa devo ancora fare devo ancora fare la lo dico poi decomposizione di Kalman avete mai sentito parlare di Kalman? chi ha fatto un po' di automazione nella triennale ne ha sentito parlare sicuramente va bene uno dei più grossi controllisti e sistemisti va bene che ci sia mai stato sicuramente va bene è un ungherese che ovviamente è finito in America negli Stati Uniti autore di è attualmente vivente ormai vecchio va bene però sempre vivente frequenta sempre l'MIT che ha fatto parecchie cose una di queste è la teoria sulla decomposizione di un sistema secondo il sottospazio di raggiungibilità va bene e virgolette il esiste un sottospazio non raggiungibile non l'ho detto esiste o no ovviamente l'insieme degli Stati non raggiungibili non è un sottospazio va bene ma è tutto lo spazio va bene meno levati va bene i vettori appartenenti al sottospazio di raggiungibilità e ciò non è un sottospazio se il sottospazio di raggiungibilità fosse un sottospazio di dimensione 1 quindi una retta va bene gli Stati non raggiungibili sono tutti gli Stati meno quella retta va bene che non è un sottospazio come giustamente ricorda il vostro collega qualcuno definisce ma attenzione va bene come sottospazio non raggiungibile l'ortogonale del sottospazio di raggiungibilità dicendo che affinché quindi dicendo che è uno stato non raggiungibile è un qualunque stato che abbia nella sua decomposizione lungo questi due sottospazi l'uno ortogonale all'altro un qualunque vettore che abbia componente non nulla lungo l'ortogonale del sottospazio di raggiungibilità allora dicevo che la decomposizione di Kalman significa suddividere il nostro sistema in due sottosistemi un primo sottosistema completamente raggiungibile un secondo sottosistema non raggiungibile ma direi completamente non raggiungibile va bene poi lo vedremo e questa decomposizione ci servirà va bene per decidere altre cose sul controllo di un sistema allora domani faremo la decomposizione di Kalman e poi parleremo di reazione parleremo di controllo di un sistema va bene attraverso una reazione dello Stato sull'ingresso e per oggi chiudiamo grazie grazie grazie